Ciao ragazzi, sono Angelo Tofalo, portavoce della Camera dei Deputati, saluto a tutti voi del meetup fortore, molto probabilmente non riusciremo ad essere lì fisicamente, ci tenevamo tutti a salutarvi, a ospitare anche i nostri europarlamentari, i nostri candidati nella circoscrizione meridionale, mi raccomando continuate così, begnatevi tanto e vinciamo noi.